Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 1 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Inizia la notte della magia. Santa Valpurga, la notte della magia con le streghe a cavallo in volo verso il Monte Brocken, ma se preferite la versione celtica, più romantica, stasera inizia la metà chiara dell'anno, si accendono fuochi, si benedicono gli armenti e si celebrano matrimoni validi un anno e un giorno. Ecco l'usanza celtica, per alcuni non suonerebbe niente male, alla fine del contratto se ci si piace ancora lo si conferma, altrimenti grazie e arrivederci, altro giro, altro regalo. Pensiero stupendo da parte di Urano all'opposizione, fan del cambiamento, se non ci fosse Giove legalista a tenerlo un po' a freno di questi anni e un giorno chissà quanti ne avreste già collezionati. Orsù, tornate coi piedi per terra, ossia nel terzo millennio i druidi hanno concluso le loro lezioni nelle foreste e la società è cambiata, se in meglio o in peggio lo scoprirete solo vivendo. In amore sembra rallentarsi tutto, in realtà ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Al consultante occorre molta pazienza per districarsi nei problemi della coppia e del proprio partner che ha spesso trascurato. I single avranno solo piccole avventure ma niente di rilievo. Frequentate ambienti diversi dai vostri abituali. Spesso ci si fossilizza con le solite persone, con le solite situazioni e sembra che il mondo finisca. Stai attento, involontariamente potrai ferire qualcuno con le parole. Un buon giorno da dedicare a relax. Comprati un buon libro. Riposa. Cercati di portare a termine ciò che iniziate, qualsiasi cosa sia. Siete pigri e questo vi può nuocere con il tempo. In quello che accade tu non ne hai colpa se non marginalmente, quindi non colpevolizzarti eccessivamente. Non capita tutti i giorni di sentirsi quasi dei leoni, Giove e il sole faranno sentire fin dalla prima mattina il loro benefico influsso. Ma attenti solo che in serata la malinconica luna potrebbe tirarvi qualche colpo mancino. Oggi non fidi quelli più adatti allo shopping o andare per vetrine, meglio starsene a casa per fare quelle cose che negli ultimi tempi avete sempre rinviato. Romanticismo e amore. Novità, lettere, telefonate, incontri piacevole. Strana giornata. Disagi a causa di altre persone. Meglio fare le cose da solo. Oggi sul lavoro potreste avere qualche discussione con i vostri superiori a causa di un collega che vi sta dando davvero filo da torcere. Provate a far capire prima di tutto al collega che non deve approfittarsene della vostra pazienza, ma fatelo con garbo e rispetto. La gelosia potrà farti commettere qualche sciocchezza. Fai attenzione. Favorite le unioni sentimentali segrete e le storie clandestine. Gli amici oggi saranno particolarmente importanti. Si manifesta in questo nuovo giorno di aprile la negatività di Urano, specie se siete nati nella terza decade, mentre il pianeta della razionalità, Saturno, vi tiene per mano trovandosi nel segno amico dei pesci, consentendovi di aggiustare o risolvere del tutto alcune questioni che avevate messo temporaneamente tra parentesi. La vita familiare richiederà da parte vostra pazienza e senso di adattabilità, che vi verranno forniti da Nettuno in angolo favorevolissimo per lo Scorpione. La notte dei maghi e delle streghe dovrebbe proprio essere la vostra chiamate pasticciare con l'occulto e il mistero, sostenuti e applauditi da Giove e Urano, generosi anche all'opposizione, e soprattutto da Saturno filosofico, Nettuno poetico e Marte operativo coalizzati nel segno acquatico dei pesci grande amico del vostro. I guai cominciano a metà pomeriggio quando la Luna, salutato il segno del caprone con la coda di pesce che la gentilmente ospitata, si avvia verso il versatore d'acqua, il giovane collanfora col compito di regalare sapienza a chiunque gliela chieda. Ma non a voi che dalla bianca signora passata in quadratura insieme al vostro astro guida Plutone ricevete solo fregature, malumori e brutti ricordi. Per fortuna non avrete neppure il tempo di covarli perché subito dopo, giusto all'ora del tè, anche il pianeta rosso trasloca passando in ariete nella vostra sesta casa, appunto la sgobbona. Amore ed Eros. Relativamente tranquilla la mattinata, ma dal pomeriggio, nell'intesa col partner e i figli qualcosa si inceppa. La causa può essere un incontro casuale, un ricordo spiacevole, un contrattempo che vi mette gli uni contro gli altri. E così c'è chi tiene il muso, chi urla rivendicando le proprie ragioni, chi cerca di farvi fessi confondendo le acque o saltando di palo in frasca. Se almeno vi beccaste per qualcosa di attuale, un problema concreto da risolvere subito. Invece no, l'argomento della baruffa sono questioni annose, gelosie, malintesi irrisolti a cui va aggiunta la ben nota antipatia tra famiglie acquisite. Perfino il quattro zampe non sembra più lo stesso, vi abbaia contro o vi mostra le ungherizzando il pelo, quasi foste un ladro che si è intrufolato in casa. Proprio vero, nella notte della magia perfino cani e gatti perdono la testa. Lavoro e denaro Se per tutta la mattinata per imperscrutabili ragioni personali o per la mancanza di un'agenda ben strutturata avete battuto la fiacca, esonerati solo i creativi che hanno sfornato meraviglie, a metà pomeriggio scoppia la bomba. Può trattarsi di un'emergenza da affrontare subito, una falla da colmare, una tegola da riparare ai diktat del vostro capo e l'agitazione di tutto lo staff. Non va meglio improprio, quando non gira non gira da nessuna parte, fanno eccezione solo le trattative, ma anche qui con imprevisto sul finale. Benessere Se allo specchio stamani eravate solo un po' contrariati per quei cuscinetti a vostri dire evidenti, ma non è vero, finalmente determinati a iscrivervi in piscina o in palestra, le cose cambiano radicalmente nel pomeriggio quando un malessere reale e non solo immaginario, come un'emicrania, una contrattura muscolare, una forte tensione emotiva, si palesa effettivamente. L'energia non vi manca, forse ce n'è troppa, ma la spendete male e se siete alle prese con gli ormoni primaverili la situazione si complica. Anche il letto ne rientra tra le medicine più gettonate, peccato che i suoi favori e i suoi piaceri non si possano trovare in farmacia. Per lei, fascino magliardo, stasera quanto mai a tema. Nero, anche se autunnale, l'abito aderente, che fa subito colpo. Primaverile, però, il profumo, rose cipriate che fanno atmosfera. Per lui, lo specchio vi rinvia un'immagine radiosa, ma in realtà non vi sentite in forma, carichi sì, fin troppo, ma questa però non è energia, soltanto adrenalina. Colore delle emozioni, rosa cipria. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.